Mi duole dire che stanno per annunciare Best Supporting Actress e non c'è un cazzo di niente di video. Anche Diego dice che è vero Alessandra, sì. Ciao, sono Valerio Novara. Quest'anno tornano i Golden Globe con la vecchia formula e quindi con una bella cerimonia, si spera insomma, una bella cerimonia in diretta e in presenza perché come ricorderete, come avete visto, l'anno scorso fu una premiazione totalmente insolita di questi premi, sono dei premi che vengono assegnati dall'Associazione della Stampa Estera di Hollywood ai migliori film e serie tv dell'anno. L'anno scorso la cerimonia non ci fu, non ci fu né il red carpet né una diretta streaming e tant'è vero che io e la mia collega serena in diretta scoprimmo che vennero assegnati i premi direttamente sul sito delle card che vennero pubblicate mano a mano sul sito e insomma la premiazione durò pochissimo, durò davvero poco rispetto al solito e insomma il sito ufficiale dei Golden Globe pubblicava mano a mano i vincitori dei film e delle serie tv più premiati dell'anno, però fu una cerimonia davvero insolita. Quest'anno per fortuna superate le polemiche relative al fatto che ci fosse poca rappresentatività e poca inclusione questa associazione della stampa estera di Hollywood che pensate dal 1944, dal 1944, che assegna questi premi, le star, iniziò Tom Cruise restituendo i Golden Globe vinti e poi mano a mano Scarlett Johansson, insomma tanti attori e attrici gli andarono dietro dicendo che non si sarebbero presentati nemmeno alla premiazione che venne boicottata totalmente e a quel punto c'era stata anche la nuova ondata del coronavirus, però insomma il motivo principale fu che nessuno voleva partecipare ai Golden Globe perché erano ritenuti poco inclusivi e c'erano state accuse pesanti anche di corruzione all'interno di questa associazione. Quest'anno sembra che le cose siano cambiate, la NBC che è la tribù che trasmetteva tutti gli anni i Golden Globe non mandò in diretta nulla mentre quest'anno tornano sulla NBC e ci sarà una cerimonia di premiazione come ai vecchi tempi e molto probabilmente con gli attori in presenza, insomma conduttore e ospiti che si susseguiranno nel corso della serata. La notizia è che in Italia non verrà trasmessa in chiaro da TV8 che in genere è il canale di Sky che fa vedere per esempio gli Oscar, la cerimonia degli Oscar la fa vedere sia in chiaro che su Sky. Quest'anno non verranno trasmessi in chiaro i Golden Globe che si terranno, ricordiamolo, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Quindi verranno trasmessi solo su Sky e in streaming su Naughty V che comunque serve l'abbonamento insomma per chi possiede l'abbonamento a Sky e a Naughty V. Noi di Ciaccheazione abbiamo deciso comunque di seguire, l'abbiamo fatto l'anno scorso, figuratevi se non lo facciamo anche quest'anno, di seguire in diretta tutta la maratona dei Golden Globe che come al solito inizia tardi perché poi torno sempre alle 2 di notte e inizia la cerimonia vera e propria però insomma noi partiremo molto prima, probabilmente intorno alle 22.30 di sera anche per tenervi svegli e raccontarvi un po' di curiosità, avremo alcuni ospiti, ci saranno con me i miei compagni di viaggio di sempre ma ci saranno numerosi ospiti e faremo sia i nostri pronostici per quanto riguarda i film e le serie TV più belle dell'anno che sono state candidate ai Golden Globe, tanti film purtroppo ancora non sono usciti in Italia però insomma cercheremo di seguirla insieme a voi, vi racconteremo tutte le novità e gli scoop che riguardano gli attori, le attrici, i registi candidati ai Golden Globe e tradurremo per voi insomma la cerimonia mano a mano che verranno dati i premi. Quindi sulle pagine Facebook e YouTube di Ciac e Azione, martedì 10 gennaio a partire dalle 22.30 insomma ci trovate live in diretta per raccontarvi e seguire insieme la premiazione dei Golden Globe che insomma aprono l'anno cinematografico che sono i premi più importanti, insomma sono un antipasto degli Oscar quindi sono i primi premi importanti dell'anno appena iniziato. Io vi saluto da Valerio Novara è tutto vi aspetto martedì 10 gennaio 22.30 Facebook e YouTube Ciac e Azione